Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Talk. Questa sera parliamo di economia, ma parliamo di economia con chi ha tenuto a battesimo Talk. Ne avevo parlato l'altra volta con Ivano, che era curiosa a questa ricorrenza, è da un anno che facciamo Talk e dopo un anno torna con noi Gianandrea Gaspar. Ciao Gianandrea. Buonasera, buongiorno, dipende per chi lo vede al mattino o per chi lo vede verso sera. Giusto, con noi naturalmente c'è Ivano. Ciao Ivano. Ciao Davide. Buonasera Presidente. Nel nostro compleanno di Talk, Ivano ha proposto a Gianandrea di parlare di un tema leggero, così molto frivolo, come per esempio la problematica che riguarda i mercati asiatici, americani e le interconnessioni, che stanno anche riguardando noi, anzi soprattutto noi. Ivano, vuoi fare tu la prima domanda a Gianandrea? Sì, noi partendo poi appunto dalla nostra prima intervista, al nostro primo talk, siamo partiti anticipando già sulla guerra in Ucraina, in realtà i risvolti economici che avevano questa guerra, per cui la prima domanda è appunto le conseguenze della guerra in Ucraina un anno dopo. Naturalmente mi riferisco non tanto alla situazione sul campo di battaglia, ma sul piano economico, lo sviluppo delle economie alternative a quella occidentale, Gianandrea. Intanto ti ringrazio dell'invito, entro subito in argomento. Credo che la parte di guerra, il tema della guerra in Ucraina, Russia-Ucraina sia un tema in realtà che rappresenta solo e esclusivamente una piccola parte di un grosso problema, di una grossa tematica che stiamo vivendo, che è qualcosa di più esteso ed è il rapporto tra due grandi potenze mondiali, tra Stati Uniti e Cina. Non c'è dubbio che la guerra sia una delle espressioni e purtroppo noi, noi facenti parte di questa generazione e ancora prima la generazione più giovane rispetto a noi, non siamo assolutamente edotti, abituati, acculturati su uno stile di guerriglia di questo genere. E ancora di più di una guerra che ha dei risvolti economici giganteschi, che forse noi facciamo fatica a percepire. Però vediamo i primi effetti anche dai presidi che si sono sviluppati nelle città dove l'economia cinese si è sviluppata silenziosamente tantissimo. Facendo quindi riferimento alla tua preposizione sul tema di oggi, noi facciamo riferimento a due grandi potenze che non possono aprirsi, nel dire aprirsi lo dico ovviamente tra virgolette, ad una guerriglia aperta, a cuore aperto, ma c'è una guerra in atto che ha dei risvolti di economia, che ha dei risvolti di conquista, che ha dei risvolti di potere non tradizionale, ma mosso con delle nuove armi, dei nuovi sistemi. Entrando ancora di più nei termini, volevo far memoria a chi ci ascolta in maniera più semplificata, a quando Donald Trump, quindi parliamo della penultima presidenza americana, di fatto dichiarò guerra alla Cina. E questo fu un momento di grande sensibilità sul piano economico. Il caso Biden di quest'ultimo presidente, che abbiamo tutti compreso a essere un presidente con poca spina dorsale, di fatto ha continuato in maniera così indotta la politica di Trump. Bene, per arrivare ad oggi, dove ci sono queste due potenze, una potenza, quella statunitense, molto moderna, ma che ha per esempio dimenticato che il costo del lavoro è assolutamente fuori dai termini, costo del lavoro americano, il costo del lavoro cinese è un quarto, se non un quinto in alcuni casi del costo della manovopera americana. Quindi Cina e Stati Uniti vivono due realtà in termini di potenza economica, di potenza produttiva, assolutamente contraddittorie e contrapposti. Come dicevamo ancora prima del nostro collegamento, e non me ne vorrai, Ivano riprendo le tue parole, noi Europa siamo servitori di due padroni. Quindi abbiamo gli Stati Uniti da una parte che hanno contribuito al risanamento dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale e abbiamo una Cina che è fornitore e cliente tedesco per poco più del 20% del PIL tedesco e il PIL tedesco, signori, è una delle, forse la più grande potenza europea in termini di economia, il 20% della sua economia è in relazione con la Cina. Quindi l'Europa non può fare a meno della Cina, l'Europa è figlia commerciale degli Stati Uniti, l'Europa è un po' carne da macello. Arriviamo poi in Dulcis in fundo, questi erano i temi che l'Avvocato Giacomelli ha posto ancora prima della trasmissione, l'ultimo tema è un eventuale default di un sistema economico. questi sono i temi. Ti faccio però anche subito una domanda che comporta una tua valutazione. Più che il mercato cinese ti chiederei la tua opinione sulle previsioni di crescita dei mercati asiatici, anche per avere diciamo così. Ti faccio una premessa, non so se la condividi, ma ci troviamo, come hai detto tu, in una guerra non dichiarata, ma in una guerra a tutti i livelli. Non forniamo uomini, forse non forniamo uomini in via ufficiale, ma sicuramente forniamo tutto il resto, compreso l'intelligence per fare attacchi entro i territori delle fazioni. Mi chiedevo soprattutto per quanto riguarda il mercato asiatico se ci sono queste previsioni di crescita, se sono positive le previsioni di crescita e alla fine il ruolo dell'Europa in questa situazione considerando appunto l'esposizione che ha avuto di essere un partner obbligato di un'economia occidentale rispetto ad un'economia orientale, asiatica, non è solo quella perché tra questo c'è per esempio il Brasile che ha aterito come potenza economica e commerciale, il Sud Africa, quindi insomma la questione è un po' più complessa, ma per semplificare, no? Ecco, la situazione dell'Europa verso questo mercato, la premessa è se questo mercato asiatico è in difficoltà o in crescita vista la situazione attuale? Sì, la domanda è molto pertinente, molto interessante. Allora il mercato asiatico in realtà è a macchia di leopardo, nel senso che non tutte le nazioni hanno sviluppato capacità commerciali e di natura moderna e di natura efficientata rispetto al mercato europeo, al mercato americano. Il mercato asiatico è in sviluppo, è un mercato in sviluppo, è un mercato che in parte viene anche sfruttato, ricordo per chi ci ascolta, uno dei mercati asiatici di grande produzione è il mercato di fatto, per esempio Vietnam, tutta la parte di Asia ancora minore ma che si sta sviluppando con una rapidità incredibile, è un mercato molto interessante sul piano della manifattura. Un altro mercato che invece è estremamente moderno e fornisce già tutta una serie di studi, di analisi, di proiezioni, di capacità davvero di interagire con quasi tutti i vettori economici è il mercato della Corea del Sud, per esempio, ed è un mercato del quale si parla poco ma che è un mercato in grandissimo sviluppo. Un altro mercato che sta diventando molto interessante è il mercato indiano. Il mercato indiano fornisce, ci sono fior di aziende, di studi, di attività che forniscono grandi matematici a tutto il mondo software, tantissimo viene dall'India ed è un mercato in netta espansione, contrapposto paradossalmente, mercato, dicevo, del sud-est asiatico e mercato dell'India, sono contrapposti ad un nuovo mercato che è quello che si sta definendo negli ultimi anni ed è un mercato di appannaggio della Cina. La Cina ha conquistato economicamente il Sudafrica, è molto tessuta nel Sudafrica, la Cina è entrata abbastanza prepotentemente nel Sudamerica, quindi sono, come dire, delle nuove geografie di economia sulle quali appunto poniamo noi trader, noi poniamo l'attenzione. Senti, a questo punto ti faccio una domanda, ma come sta gestendo quest'area? Naturalmente parlo dell'area avanzata, il problema dell'inflazione, e se loro hanno un problema di inflazione? Sì, ti ringrazio, un'altra domanda. Allora, l'inflazione cinese è praticamente a zero, nel senso che l'inflazione cinese si aggirava intorno allo 0,6-0,7%, quindi inferiore all'1%, per cento. Ricordo ovviamente, ma è inutile quasi farlo, che sono paesi dove vige un principio di economia molto regolamentata interna, perché sono paesi comunisti, insomma, che hanno dei regimi comunisti molto forti, quindi è un'inflazione che oggi si aggira allo 0,1%, questo in Cina. Contrapposto ovviamente il nostro mercato, che ha un'inflazione, parliamo di inflazioni di libro, cioè sono quelle inflazioni reali, ma che poi sul piano davvero reale hanno poca attinenza. Mi spiego meglio. L'inflazione in Europa si aggira intorno all'8%, in realtà, se io lo chiedessi alla signora che va a fare la spesa tutti i giorni, mi direbbe che è ben altro dell'8%, perché le materie sono aumentate a due cifre, 12, 13, 14, 15%. Quindi, torniamo a noi, l'inflazione che c'è, in realtà in questo momento in Cina è praticamente nulla, l'inflazione che c'è invece, giustamente come la tua domanda sottolineava, negli Stati Uniti è un'inflazione che è ancora pari al 5-6%, quindi è un'inflazione ancora abbastanza alta. Il problema è che, qui concludo, l'eterogenia, cioè la differenza che c'è tra tutti i paesi che confluiscono nello sviluppo economico del mondo, in questo momento è una situazione fortemente disgregata e questo non contribuisce a una crescita economica omogenea, ovviamente. Questo è un grosso problema, questo assolutamente è un grosso problema. Senti, hai parlato di inflazione degli Stati Uniti, quindi a questo punto entriamo proprio in un punto delicato. La domanda mia è innanzitutto, e mi riferisco a rischio default da una parte, ma dall'altra soprattutto alla crisi del sistema bancario. Quindi la mia prima domanda è, ma questa crisi del sistema bancario è effettivamente legato all'aumento dell'inflazione dei tassi di interesse o c'è altro? Seconda domanda, su quello che si sta ragionando, cioè o meglio le informazioni che girano ora sul rischio default americano. Secondo te, quali sono le ragioni reali di questa instabilità americana? Ok, allora, è una domanda, tu sei sempre molto preciso e pertinente. Allora, noi dobbiamo sempre considerare, lo dico a chi ci ascolta, dobbiamo sempre considerare che la realtà economico-politica che stiamo vivendo tra questi paesi, tra questi continenti, quindi parliamo degli Stati Uniti da una parte, l'Europa al centro e la Cina dall'altra, sono tre realtà fortemente differenti e differenziate proprio nelle microattività che le contraddistinguono. Bene, tentiamo di dare una risposta omogenea a questi due temi. Allora, la tua regia ha una slide che abbiamo condiviso stamattina, dove si vede la... ecco, su questa slide si vede proprio come le due potenze entrino piano piano a conquistare territori proprio sul piano economico. E la parte che non è evidenziata, e ve lo dico con estrema attenzione perché su questa slide non sarebbe potuta circolare in maniera così facile, è come vi dicevo prima che la Cina ha già la proprietà del Sudafrica e la proprietà del Sudamerica, dove la Cina è molto inserita. Tentiamo adesso di entrare nell'argomento che l'avvocato Giacomelli ha posto. Allora, l'inflazione americana è legata ad un mercato molto libero, cioè dove gli americani si divertono a rendere facile il loro commercio. Gli americani sono nella totale libertà espressiva. In termini di business e in termini commerciali gli Stati Uniti generano prodotto interno loro, quindi ricchezza per il proprio paese, generando spesa. Faccio un esempio banale. Gli americani fino ad oggi, insomma non ci sono note di differenza sino ad oggi, sono abituati a spendere con le carte di credito e andando a debito, cioè le carte di credito consentono loro di comprare tranquillamente e di ripagare i debiti a rate. Quindi non come noi che magari a fine mese abbiamo un saldo e ci vengono caricati i debiti sul nostro conto corrente, ma con le carte loro possono andare a pagare a rate. Questo ha consentito al mercato americano di esplodere in un meccanismo però a debito. Quindi la libertà del mercato americano ha generato inflazione, quindi se c'è domanda su determinati beni i produttori di quei beni si sentono anche nella libertà di aumentare i prezzi. Tanto la domanda c'è e quindi si sentono liberi di aumentare i prezzi. Questo ha generato inflazione. Quest'inflazione ha impattato fortemente e io non so se siete al corrente perché è una notizia di circa mezz'ora fa, ma la PAC West, che è una banca americana, ha dichiarato di non essere così in condizioni solidissime perché tantissimi suoi correntisti hanno iniziato a recuperare i conti correnti, a chiudere i conti correnti e a chiedere di essere pagati a saldo e i clienti chiudono i conti. Quindi questa PAC West è probabilmente la prossima banca. Che cosa è successo? Tento di rispondere ancora all'Avvocato Giacomelli. Allora, le banche avendo un aumento dei tassi dettato dalla SEC americana, dalla Fed americana, la SEC poi è la parte di attuazione, la Fed americana ha aumentato i tassi. Aumentando i tassi le nuove obbligazioni americane rendono di più, mentre quindi quelle vecchie già emesse da qualche anno rendono di meno. Allora quelle vecchie perdono di prezzo, perdono di valore perché scendono, non essendo più così interessanti, scendono di prezzo e le stesse banche americane che avevano al loro interno obbligazioni vecchie, per capirci, avendo i prezzi che sono scesi di quelle stesse obbligazioni e magari in alcuni casi essendo costrette a doverli vendere, hanno generato dei buchi, perché hanno venduto in perdita. Questo ha fatto sì che tante banche, ne abbiamo sentite, la First National Bank è stata una, la Silicon Valley Bank ed altre, oggi questa PacWest, ma è notizia di mezz'ora fa, hanno dei seri problemi. Questi problemi hanno generato eh problemi ulteriori su un impianto inflattivo già compromesso e quindi si sta parlando di default americano, cioè sta girando questa voce ed è una voce sempre più insistente. Se questo accade, io non credo che accadrà, ma se questo accadesse... Io volevo chiedere questo, ma questo è un default tecnico legato al fatto che l'America diciamo definisce il tetto per legge e quindi teoricamente basta una legge a cambiarla o economicamente è in una situazione di difficoltà economica? Io non sono così bravo, però tento comunque di dare una lettura, nel senso che c'è gente più brava di me, per carità di Dio, però la lettura che dobbiamo fare è in questi termini. Gli Stati Uniti sono ancora oggi comunque la prima o comunque la seconda potenza mondiale, vediamola un po' come vogliamo. Quindi hanno delle capacità e delle opportunità, ma ve la dico anche molto facile, delle opportunità di sistemazione del proprio impianto economico finanziario che loro possono gestire molto facilmente. Provate a pensare a questo. Se di fatto i problemi ci sono, al di là del fatto che magari poi più avanti potranno anche iniziare o a non toccare più i tassi o addirittura a farli scendere, possono ridurre la valuta per far sì che se voi dovete comprare delle merci statunitensi, domani mattina con una valuta più bassa le pagate meno. Questo consentirebbe loro di sviluppare fortemente la propria economia interna. Qualcosa di simile è successo anche in Italia. Qualcuno ricorderà, soprattutto chi ha la nostra età, ricorderà la svalutazione della lira. La svalutazione della lira era nient'altro che appunto far scendere il prezzo della lira per consentire a chi avrebbe acquistato prodotti italiani di pagarli meno o di pagarli con uno sconto. Questo gli Stati Uniti lo possono fare. E questo rilancerebbe la loro economia secondo te? Sicuramente però, nel senso, oltre la soglia di crisi? Diciamo che Ivano con tutto quello che hanno in termini di strumenti, questo potrebbe agevolarli molto. Capisco che è un argomento non facile, non lo è. No, no, ma è chiaro, è proprio appunto, seguivo anche le ultime dichiarazioni soprattutto del Presidente Biden che ovviamente esclude un'ipotesi di default, ma questo diciamo ci sta ed è anche comprensibile. Si entrerebbe, come dicevi tu, semmai in una linea di defaultazione tecnica dove in realtà nessuno si accorge di niente, perché non toccherebbe nulla. Certo, certo, anzi, veramente le tue parole adesso mi hanno fatto, mi hanno suscitato un pensiero cattivo, che lo premetto per un pensiero cattivo, e te lo dico così con questa premessa. Il default americano, appunto il default tecnico americano, non è di oggi, ma è un certo tempo che se ne parla, ma oggi è entrato sullo scenario in maniera molto preponderante e mi chiedevo se questo avesse un po' a che fare con la necessità di finanziare una guerra molto dissanguante sul piano economico. Tu l'hai ricordato, hai detto noi non siamo preparati ad una guerra di trincea. Lo ricordavo in un precedente talk, uno degli esperti che abbiamo contattato, e dice l'Europa si è trovata impreparata, e parlava dell'Europa naturalmente, perché ormai da 50 anni a questa parte ha sempre sviluppato una guerra lampo di movimento, di intervento, non era assolutamente preparata a una guerra di posizione. Quindi noi ci troviamo dopo appena due mesi che abbiamo i magazzini vuoti. Addirittura portava un esempio che mi ha particolarmente colpito, adesso non ricordo bene i numeri, ma lui diceva che il numero di bombe lanciate attraverso i cannoni in un giorno erano pari all'intera riserva europea, per cui non siamo assolutamente in grado di costruire un numero di ordigni sufficienti a integrare continuamente questa massa. Considerando e collegando l'annunciata controoffensiva, dato che è annunciata da parecchio tempo e che i russi non stanno certo lì imbambolati, ma hanno ritirato le loro linee appostandole in punti strategici e rafforzando le posizioni difensive, sarà probabilmente una controoffensiva molto sanguinosa e con una spendita di armi e munizioni spaventoso, di vite umane purtroppo, questo sembra ormai diventato un problema di secondo genere. Ecco, questa ipotesi di default potrebbe essere in qualche modo di aiuto alla possibilità quindi di aumentare il debito pubblico e quindi di fare un nuovo investimento per produrre appunto armamenti. Ma allora, una domanda molto molto pertinente, in realtà noi dobbiamo sempre considerare che ci sono due cervelli che stanno ragionando, uno è il cervello americano e l'altro è il cervello europeo. Il cervello europeo, come giustamente sostenevi tu, ha dei limiti, nel senso che arriva fino a un certo punto, noi abbiamo addirittura un'azienda che è di proprietà di Leonardo, che è la Otto Melara, che sta costruendo armi a più non posso e queste armi vanno a finire in Ucraina, ma come dire, siamo contingentati, noi non riusciamo a sostenere tutta la produzione o tantomeno a seguirne lo sviluppo, quindi siamo sempre un po' in affanno. Gli Stati Uniti hanno ordinato e hanno posizionato anche delle proprie risorse belliche, è arrivata l'Inghilterra che non ci aspettavamo perché l'Inghilterra era un po' così con la puzza sotto il naso e stava un pochino in disparte, poi in realtà è arrivata, c'è Trump che ha fatto l'ultima dichiarazione ancora un giorno fa o due giorni fa dove ha detto che se fosse lui il Presidente degli Stati Uniti nell'arco di 24 ore avrebbe già risolto la questione russa-Russia-Ucraina. Quindi seguendoti e cercando di trovare un Firouge in questo ragionamento che in realtà sarebbe molto lungo perché è articolato, perché affronta tanti argomenti. Dire che questo ci fa del bene e ci contiene livelli inflattivi oppure ce li sviluppa, questo è ancora difficile da stimare perché noi ancora ad oggi non sappiamo pubblicamente, poi ovviamente chi è per il posto lo saprà, ma noi non sappiamo quant'è la spesa per gli armamenti, quant'è la spesa europea a sostegno di questa guerra, quindi come dire, non sappiamo tante cose e nemmeno noi che facciamo questo lavoro di analisi abbiamo degli elementi che ci possano consentire coerenze analitiche e sviluppi di buon senso, purtroppo siamo molto poveri di dati in questo momento. C'è sicuramente una polarizzazione politica eccessiva da parte degli Stati Uniti e c'è una polarizzazione politica eccessiva da parte della Russia dall'altra parte, quindi questa Cina che non si sa bene chi appoggi, stiamo parlando di argomenti che tu avvocato mi insegni essere estremamente complessi, estremamente articolati non riusciamo a dare una risposta netta, ecco io posso tentare una vision sul piano economico ma poi il resto non sappiamo davvero. Eh sì, ormai come oggi si possono solo ipotizzare scenari dai più catastrofici a quelli diciamo così più... chissà se Trump quando ha fatto quell'affermazione ha inteso dire che lui avrebbe obbligato a trattare gli ucraini un accordo di pace o se pensava ad altro insomma. Ecco, ecco, bravo, sì. Poi aspettiamo il Vaticano, il Vaticano sappiamo che sta lavorando fortemente, non sappiamo bene in che termini ma sappiamo che il tavolo è apertissimo e loro ci stanno lavorando, stanno lavorando con i Pope di là in Russia, quindi so che si parlano, questo mi arriva come informazione, penso che anzi giù nei tuoi studi giù a Roma, voi abbiate sensibilità anche su questi argomenti, quindi voglio dire qualcosa di grande sta succedendo, intanto che succede quel qualcosa di grande sul piano economico, anche sul piano così prettamente politico sociale qualcosa deve succedere. Il mondo sta cambiando forma, questo è fuori dubbio. Scusami Gian, ho una domanda io per te. Avete parlato di Cina e America. Io vorrei buttare lì come ultima domanda perché poi il nostro tempo è finito, Taiwan. Cosa succede alle aziende che producono i semiconduttori, quelli che adesso sembrano la merce più rara del mondo per cui non si riescono a consegnare le macchine, tutto ritardato a causa di questi mitici semiconduttori. Tra l'altro sono prodotti anche in Italia i semiconduttori, ce n'è una votata in borsa. Tu hai toccato un altro argomento interessante perché Taiwan, come avete notato negli ultimi tempi, è scomparsa dalle pagine dei giornali. Ormai il tema Taiwan si era accennato alla fine di gennaio e primi di febbraio e poi è entrato in un silenzio ermetico dove non passa nemmeno uno spiffero. Qualcosa si è saputo un paio di settimane fa che era tornato leggermente in auge ma è stato solo un titolo e dopodiché non se ne è più parlato. L'argomento Taiwan tocca ovviamente la produzione dei microprocessori che vengono sviluppati proprio a Taiwan e sono quei microprocessori che fanno andare le nostre macchine, le nostre caldaie, qualsiasi cosa sia di natura elettronica a tanti microprocessori. Certamente è un argomento di grande sensibilità. Ripeto, noi e qui forse entriamo anche in un meccanismo di conclusione. Gli Stati Uniti non possono fare a meno della Cina, la Cina non può fare a meno degli Stati Uniti. Questo è un assunto del quale avevamo accennato anche con l'avvocato Giacomelli. Questo assunto porta l'isola di Taiwan, isola gigantesca di Taiwan, a non poter essere un territorio di diatriba, di sfida, addirittura poi di natura di sfida bellica o cose così. Ma nel modo più assoluto perché entrambe le potenze abbisognano uno dell'altro. Quindi Taiwan deve essere un po' cinese e un po' americana per definizione. Con questa conclusione, un po' cinese e un po' americana, io vi ringrazio, ringrazio Gianandrea. Io finirei invece con una precedente conclusione di Gianandrea. Vai Presidente. Qualcosa di grande sta accadendo. Sì, sì, condivido Presidente. Sì, sì, sì. Qualcosa di grande sta accadendo. Io credo che la nostra generazione non riuscirà a vedere magari quello che accadrà, ma sicuramente i nostri eredi, i nostri figli vedranno un mondo molto diverso da quello che vediamo oggi. Sì. Ok, abbiamo finito quindi con questa grande frase di mistero. Vedremo che cosa accadrà. Io ringrazio il Presidente. Speriamo qualcosa di buono. Grazie. Ringrazio il Presidente che ho sempre il piacere di vedere. Sempre lui a Roma, lui a Milano, quindi non riusciamo mai incrociarci, però ti ringrazio. Avremo occasione, avremo occasione. Grazie Ivano. Grazie a tutti e alla prossima. Ci vediamo giovedì prossimo. Grazie Gianandrea. Ciao, a presto. Ciao, arrivederci. Ciao.